Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Mariano, oggi parliamo di due novità fondamentali di Google Calendar. Molti di noi utilizzano Calendar come pianificatore dei propri appuntamenti, insomma di tutte le cose che abbiamo da fare, io lo uso davvero in maniera massiva sia sul computer che sul cellulare perché Calendar è veramente uno strumento fantastico. Ha introdotto queste due nuove funzionalità di cui vi voglio parlare. La prima è task e cioè vediamo come prima c'erano i promemoria, poi c'erano i task, le cose da fare, adesso Google ha messo tutto insieme sui task e vediamo come è molto integrato all'interno del nostro calendario. Quindi le cose che ci dobbiamo ricordare le possiamo inserire tutte all'interno del nostro calendario e avere sempre tutto in ordine e tutto sott'occhio. La seconda enorme novità è il fatto che possiamo pianificare gli appuntamenti con gli altri e cioè dare agli altri un nostro calendario tipo i nostri orari di ricevimento e gli altri possono prenotare gli slot, ad esempio orari per appuntamenti con noi. Immaginiamoci per docenti, per persone che hanno appuntamenti, consulenti, davvero tantissime opportunità. Fino ad ora questi strumenti erano a pagamento, abbiamo fatto anche dei video qui su Calendly ad esempio, ma dovevi pagare un abbonamento, adesso gli sviluppatori di Google l'hanno inserito all'interno di Calendar. Veramente una cosa fantastica, dai, impariamo subito ad utilizzarli, non prima di averti ricordato di iscriverti al mio canale. Questi sono tutti gli altri miei social, forza forza, iniziamo! Una volta che siamo all'interno del nostro calendario, vedete adesso metto oggi, io sto registrando adesso, in questo momento, vedete come qui in alto abbiamo il calendario e poi abbiamo tutti i task. Passa a Google Task e vedete come posso inserire le mie attività. Ma guardiamo come qui sulla destra, anche qui è molto semplice entrarci, cioè guardate come c'è questo pulsante qui azzurro che è proprio il mio Google Task. Una volta che ci clicco immediatamente posso aggiungere una nuova attività. Posso scrivere, ad esempio, fare la spesa e posso mettere, aggiungere dei dettagli, molti dettagli qui dentro, mettere una data e un'ora, magari non so, il 17 gennaio, posso impostare un'ora, magari alle 11.30, posso dirgli di ripeterlo, magari mai, il, dopo, eccetera. Qui posso mettere, ad esempio, posso spezzare il fatto di poter ripetere, ad esempio, gli auguri. Non so, fino adesso gli auguri noi dovevamo metterli all'interno del nostro calendario come se fossero degli appuntamenti, possiamo shiftarli tutti sui task. Quindi una cosa molto più agevole, a mio avviso. Benissimo, questo non si ripete mai, si ripete una volta sola e guardate come qui poi hai. Fare la spesa, fare gli auguri a Maurizio. Qui posso mettere delle categorie, ad esempio le mie attività, posso crearne uno nuovo che lo chiamo magari lavoro e quindi mettere le mie attività del lavoro tutte dentro questo nuovo contenitore. Li posso anche contrassegnare con gli speciali e così via. Per rendere un task ricorrente, appunto, te l'ho fatto vedere, magari ne possiamo creare uno nuovo. Guardate, non tanto, sì, magari sotto lavoro, aggiungi un'attività, pagare IVA, faccio per dire, mettiamo, lo so, il 17 di febbraio, ripete, ripeti ogni anno e gli dico, ok, a questo punto ogni anno avrò questo task di pagare l'IVA il 17 febbraio. Mi sembra che abbiamo messo una cosa del genere. Benissimo, per vederli tutti quanti, i task, vedete, basta che clicco qui, qui su questo, su questo a parte qui e ho sulle mie attività, ho tutte fare la spesa, fare gli auguri a Maurizio, sulla parte del lavoro ho pagare l'IVA, li posso vedere tutti, li posso vedere alcuni, vedete come li posso anche togliere dagli elenchi. Un'altra cosa che ti voglio far vedere è la differenza tra un task e un appuntamento. vedete che il task è inserito con questo tastino qui e, guardate, adesso ne metto un altro così te ne voglio, te lo voglio far vedere, aggiungo un'attività, fare questo, adesso lo scrivo abbastanza velocemente, fare questo e la data, la mettiamo il 28, gli imposto anche un'ora alle 13.30 ok, vediamo un po', vedete come viene, il task viene indicato con questo cerchio qui, la differenza invece su un incontro, su un appuntamento del nostro calendario è il fatto che non ho questo cerchio qui, quindi vedete la differenza. Tra l'altro possiamo anche magari cambiargli colore e quindi magari i task li voglio mettere gialli o cedro, appunto, sono cedro, adesso li tolgo, li rimetto così li vedi e guarda come questi poi io riconosco che sono dei task e gli altri invece riconosco che sono degli appuntamenti. Quindi questa è la prima grande enorme novità che Google ha inserito. Guardate, magari adesso vi sembra un pochino, ecco così, dire, vabbè dai, a cosa serve? invece se noi riusciamo davvero a tenere sotto controllo sia gli appuntamenti ed i task, la nostra gestione del tempo sarà molto molto più agevole. Ma guardate qui la seconda novità che Google ha introdotto. Adesso attenzione perché la sta introducendo via via e via via la sta introducendo gratuitamente per alcuni account. In un account che io ho è gratuita e vedete se vado su crea posso creare un evento, l'abbiamo visto, posso creare un'attività, l'abbiamo visto e adesso abbiamo anche programma gli appuntamenti. E questa è una cosa nuovissima. Allora che cosa vuol dire questo? Non so, ad esempio scriviamo appuntamenti per ricevimento. Adesso mettiamo il ricevimento ma possiamo mettere poi, non lo so, per consulenza, per bon, non lo so. La durata dell'appuntamento posso scegliere, ad esempio se metterlo di 30 minuti, vedete come qui la durata viene spezzata, l'avete visto, da un'ora te lo faccio rivedere, magari mettiamo 45, vedete come gli slot aumentano, mettiamo adesso un'ora. Posso decidere quando, essere disponibile o meno. Ad esempio se io il lunedì non sono disponibile, guardate come qui clicco su questo tasto, metto così e vedete come il lunedì di ogni singola settimana, il lunedì io non sono disponibile. Guardate poi se ad esempio qui io voglio ridurre, ad esempio non voglio mettere dalle 9 alle 5 perché è un orario continuato, insomma un orario abbastanza pesante, metto dalle 9 a mezzogiorno e mezza, vedete come il martedì è andato dalle 9 a mezzogiorno e mezza e poi gli dico di aggiungere un martedì magari dalle 2 alle 4 del pomeriggio e vedete come gli slot si spezzano e si spostano verso il fondo, quindi ho messo 3 slot la mattina e 2 slot il pomeriggio. Poi ecco posso togliere alcuni pezzi e così via, li posso mettere come voglio. La finestra di programmazione, anche questa è molto interessante, cioè posso dirgli ad esempio quando sono disponibile, quando non sono disponibile, cioè farmi un calendario in modo che non è che tutti i giorni dell'anno a quelle ore lì io sono disponibile. Ancora posso mettere un anticipo massimo e quindi vuol dire che le persone al massimo si possono prenotare fino a 60 giorni, posso ad esempio ridurlo in modo che ho mese e mese ed inoltre l'anticipo minimo che si possono ottenere, cioè una persona ad esempio in questo caso si può prenotare fino a 4 ore prima. Poi posso anche mettere delle disponibilità specifiche, quindi impostare proprio un calendario specifico. Le impostazioni degli appuntamenti prenotati vuol dire che posso inserire un margine tra gli appuntamenti, guardate se metto mezz'ora di margine vuol dire che tra un appuntamento e un altro rifiato per 30 minuti ed anche un numero massimo di prenotazioni giornaliere. Ad esempio se io non voglio più di 4 appuntamenti giornalieri lo posso mettere qui. Qui ho il collegamento su altri calendari e così via ed inoltre posso mettere anche il colore diverso per vederlo. Una volta che ho messo tutte queste cose qui vado su avanti e qui ho il nome e la foto della pagina di prenotazione, ad esempio qui c'è scritto Sisi Lindy, vabbè che posso cambiare però lo posso cambiare all'interno del mio account di Google, il luogo della conferenza del tipo se voglio mettere un indirizzo oppure posso anche mettere chiaramente le videoconferenze Google Meet quindi dire guarda tutte queste consulenze saranno fatte con questo indirizzo quindi alla persona che prenota gli arriverà anche un indirizzo e lo posso metterlo qui, una descrizione e quindi aggiungere descrizione incontro, il modulo di prenotazione in cui io voglio che le persone obbligatoriamente mettono il loro nome, cognome e l'indirizzo email ed inoltre le conferme della prenotazione perché a questo punto una volta che uno prenota arriverà al prenotato una mail per dire guarda quello slot è stato prenotato da questa persona qui. Posso aggiungere anche un'altra domanda e ad esempio non so il numero di telefono oppure una domanda personalizzata nel caso in cui voglio aggiungere ancora un'altra cosa. Se vado su salva guardate come mi ammette, guardate tutti gli appuntamenti, gli slot che io avevo prenotato e se vado su apri pagina prenotazione vedo proprio la mia pagina di prenotazione cioè quella che se io la condivido arriverà alle persone. Quindi ad esempio immaginiamo la posso mettere su un sito, la posso mettere all'interno della mia pagina personale, non lo so, della scuola, la posso mettere insomma in tante parti. Ad esempio se io sono un consulente lo posso mettere, non so, sulla mia pagina di Whatsapp, mandarla ai miei clienti e così via quando ti chiedono un appuntamento. Se io ad esempio vado, prenoto questa alle 10 e mezza, posso impostare tutte queste cose, qui ci posso mettere anche l'indirizzo e gli dico prenota. Ora va bene, l'ho prenotato con lo stesso indirizzo con cui mi arriva. Quindi adesso se io vado in questo momento su Gmail mi sono arrivate due email del prenotato e del fatto che ho prenotato. Però vabbè, non ci facciamo caso, vedete come ho un appuntamento prenotato e quindi mi dice che Mariano Pierantozzi ha prenotato questo appuntamento. E insomma questa è una cosa davvero fantastica perché a questo punto tu sai che qualcuno ti ha prenotato e quindi ti tieni libero per quello slot. E andiamolo a vedere anche su Google Calendar, vediamo un po' se è cambiato qualcosa, vediamo, 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 ok. Non mi ricordo quando l'avevo prenotato, eccolo qui, guardate come questo è l'appuntamento, l'appuntamento prenotato. Vedete, appuntamento prenotato da Mariano Pierantozzi. Quindi guardate come, mentre quando non ho prenotato appare ancora con quella casellina lì, una volta che è prenotato non c'è più quella casellina lì, come per dire, guarda, quello è uno slot ormai andato. Benissimo, spero davvero che queste due grandissime, a mio avviso, novità di Google Calendar ti siano piaciute. Scrivete qui nei commenti se già le conoscevi tutte, se le userai e quale di queste ti è piaciuta di più. Ora non mi resta che augurarti un ottimo studio, anche con questo, un bellissimo ed soddisfacente lavoro, una vita splendida e ti saluto con il mio. Ciao ciao, non ti scordare di iscriverti al mio canale, questo e tutti gli altri miei social. Alla prossima! Ciao!